Tutti noi vogliamo rendere felici i nostri animali e in questo caso stiamo parlando quindi dell'importanza di avere un hotel pet friendly. Non è una cosa nuova, da tantissimi anni si parla dell'importanza di rendere la propria struttura alberghiera accogliente per i cani e i gatti che sono i due animali domestici principali. Oggi però bisogna cominciare ad ampliare il proprio pensiero e non vedere solamente un'ospitalità come la possibilità di far entrare l'animale domestico all'interno della propria struttura. Anche qui dobbiamo andare ad un livello superiore e per questo ti invito a iniziare a pensare a dei servizi personalizzati proprio per i nostri amici animali. Pensa ad esempio a una tariffa pet friendly dedicata solo alle persone che viaggiano con il proprio amico a quattro zampe oppure a dei servizi proprio dedicati all'interno della camera o all'interno del tuo ristorante per rendere il soggiorno speciale anche per loro.